ok, dopo aver visto come usare il Blender Internal Render che è questo, Blender Render, per fare il nostro legno vediamo anche come usare il Blender Internal Render per ottenere gli effetti di trasparenza della foglia quindi avendo delle texture e in particolare abbiamo una diffuse poi abbiamo una specular e poi abbiamo una normal quindi prendiamo queste tre e vediamo come riuscire a orchestrare la foglia un po' come abbiamo fatto con Cycles primo piccolo trucco è che possiamo prenderci queste texture quindi possiamo prendere la diffuse e ce la portiamo dentro Blender poi ci prendiamo anche la specular e ci prendiamo anche la normal map dunque, se tutto è andato bene in realtà quello che è successo è che queste texture ce le ha messe dentro l'UV Image Editor dovremmo vedere le nostre tre texture questo è un piccolo trucco che può essere usato per prendere facilmente delle texture dal disco ora avendo le texture e dovendo fare una foglia ricordiamo che lo facciamo su un piano quindi cancelliamo il nostro cubo Shift A e poi qui prendiamo un piano e cerchiamo di fare in modo tale che su questo piano compaia questa foglia trasparente siamo un po' pigri quindi facciamo Generate UVs cerchiamo di guardarlo dall'alto quindi più o meno così e così cerchiamo di vedere se riusciamo ad associarci come abbiamo visto prima le nostre texture allora abbiamo imparato che quindi qui magari possiamo chiudere un secondo questo e poi anche questo e così guardiamo con attenzione cosa succede vi ho detto che dobbiamo andare sul materiale e qui dobbiamo assegnargli un materiale e questo qui diciamo che diventa la foglia ok poi a questo materiale abbiamo detto che dobbiamo cominciare a mettere una diffuse allora la diffuse gli mettiamo una nuova immagine e questa diventerà la nostra diffuse la nostra diffuse a cui associamo la nostra foglia 4 frontale perfetto e poi dobbiamo ancora dirgli di usare l'UV ce l'abbiamo UV Map perfetto allora adesso in teoria dovremmo già vedere la foglia dunque texture rendered ok vediamo la foglia quello che noterete è che come abbiamo già visto per il Cycles la foglia appare in realtà senza l'effetto di trasparenza nel senso che sembra appiccicata su un foglio bianco quindi la prima cosa da fare sarà di indicare che la diffuse che abbiamo visto che contiene anche la infatti se facciamo show alpha dovrebbe farci vedere che la foglia di per sé sarebbe trasparente ma per vederla effettivamente trasparente dobbiamo andare qui dove parla del materiale adesso qui si dovrebbe vedere molto forte e dobbiamo prima di tutto abilitare la trasparenza ok abilitare la trasparenza non è sufficiente perché bisogna metterci quindi la trasparenza credo minima adesso non mi ricordo se 0 o 1 adesso lo vediamo completamente ma come facciamo a vedere se effettivamente la trasparenza a questo punto va in porto bisogna andare nelle texture e qui dove abbiamo la diffuse andiamo giù e dobbiamo semplicemente dirgli che oltre al colore vogliamo anche l'alfa della foglia e come vedete abbiamo questa foglia che diventa trasparente per essere sicuri che sia veramente trasparente basta metterci un oggettino sotto quindi noi andiamo un secondo in material vedete che sembra trasparente ma facciamo shift a e ci mettiamo per esempio una mesh mettiamo anche la nostra Susanna rx la mettiamo un po' così e poi la mettiamo sotto la foglia e vediamo se effettivamente diventa trasparente vedete che in questo caso non ce la fa vedere trasparente ma per essere sicuri andiamo in rendered ok in rendered vedete che effettivamente la foglia diventa trasparente quindi questo è giusto poi rimane sempre il fatto che bisognerebbe vederla con le luci giuste quindi magari andiamo a recuperare questa luce la aggiustiamo quindi questa è la luce andiamo su le luci vi ho detto che una delle luci migliore migliore è questa ok e quindi vedete che in realtà anche nella modalità anche nella modalità questa che non è la non è la rendered ma è bensì la material vediamo che è trasparente la luce qui magari è un po' eccessiva quindi si poteva diminuire quindi selezioniamo la luce questa energy e qui si può mettere un'energia un pochino inferiore 0,5 ok quindi viene leggermente più meno intensa eventualmente possiamo fare come al solito di pilotare la luce in modo tale che ci venga che punti quindi facciamo un po' di giri cerchiamo di ecco vedete che la luce punta proprio così in modo tale che da poterla vedere di sbieco ok allora quindi il piccolo trucco rispetto a prima è di avere abilitato della foglia ripetiamolo abbiamo abilitato il la trasparenza abbiamo impostato la z transparency se non avessimo fatto beh funziona anche con la maschera in realtà oppure con ray 3 sono tre modi con cui si possono fare la trasparenza allora normalmente suggeriscono la z transparency questa e poi se non avessimo fatto l'abbassamento dell'alpha a zero non saremmo riusciti a vedere la trasparenza reale quindi questa operazione è da fare e poi nella nostra immagine che era trasparente oltre a metterci la UV map giusta e associarla all'immagine gli abbiamo ancora detto semplicemente che cosa che oltre al colore e abbiamo detto che deve fare anche l'alpha ora mettiamo anche le altre due texture visto che ce l'abbiamo quindi andiamo qui e gli aggiungiamo la normal map quindi facciamo new texture quindi questa diventa la normal la normal gli mettiamo la normal come sappiamo vedete che agisce in questo modo come ho imparato nei video precedenti togliamo il colore e diciamo che la normal agisce qua come normal e poi abbiamo ancora vedete che si vede chiaramente che c'ha questo effetto interessante che possiamo però leggermente correggere perché è un po' eccessivo andando nell'image sampling come abbiamo visto e impostando normal map ok in realtà abbiamo visto che per vederla bene occorre anche aggiungere la specular map perché quando si fanno queste cose le facciamo sempre appaiate quindi facciamo anche la specular nella specular gli mettiamo finalmente la specular questa che vedete che funziona bene insieme alla normal map gli togliamo il colore e la impostiamo sull'intensità oppure sul hardness che funziona leggermente meglio quindi questo è il 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 no così quindi vedete che qui abbiamo questo effetto tridimensionale la normal possiamo beh in alcuni casi può anche darsi che la normal map possiamo ottenerla stavo facendo un po' di prove questo questo spunta qua come vedete use image rgb values for normal mapping quindi in teoria è quella giusta perché dice di usare non color in questo caso cioè che la normal map non è da usare nei suoi colori ma proprio come normal ma se avesse una bump map in teoria dovreste c'è quella bianco e nero dove non dovreste cliccare sopra alternativamente se vedete che comunque ha un buon effetto in visualizzazione facendo così tenetelo ma probabilmente dovete abbassare parecchio questo questo valore 0402 no credo che forse era meglio nell'altro modo comunque il concetto di questo video era quello di farvi vedere sostanzialmente come inserire la trasparenza nel blender internal e quindi è tutto 0402 0402 0402 0402 0402